A Ferragna si inaugura il primo biodigestore della Liguria e questo comunque sarà determinante per il futuro della Val Bormida. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Ma è una posizione interlocutoria perché noi dal punto di vista tecnologico preferiamo biodigestori a tecnologia aerobica e di dimensioni più contenute, quindi più distribuiti sul territorio e più vicini alle esigenze della comunità locale. Questo approccio che con quello di Ferragna vediamo è un approccio molto orientato al business e quindi potenzialmente ben oltre le necessità del nostro territorio. Non vorremmo che questo creasse oltre a un eccesso di traffici e comunque di problematiche ambientali anche un progetto potenzialmente poco utile per la collettività. Quindi valuteremo attentamente il rapporto costi-benefici e soprattutto l'impatto ambientale per il quale siamo piuttosto preoccupati. Valuteremo comunque con attenzione.